Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale ART Siamo tornati su MXGP3, stiamo per affrontare la gara numero 2 del nostro mondiale MX1 Siamo a Sufamburi, Thailandia Piove, che ve lo dico a fare Sto gioco sembra che ci abbia la nuvoletta di fantozzi, di mortacci Piove sempre, qualsiasi circuito Ci siamo classificati in quindicesima posizione, quindi partiamo subito Selezioniamo la partenza Due sole cose, o la TM fa schifo in qualifica Oppure, come su MotoCP, le qualifiche sono pagate Guardate come si scrabba qui Si drifta Scusi, cold and off Eh, vabbè, larghissimo Mamma mia come drifta la moto Posteriore un po' instabile Dentro su Coldenov, ancora no Caduto Polen Coldenov prende il largo addirittura, si allontana Ci ha superato anche Charlier Sì, vabbè Zio, atterrami in testa Fa un po' come cazzo mi pare Stiamo perdendo posizioni, raga Dopo una partenza sportiveggiante Eh, vabbè Qua poi ho sbagliato io Errore di nuovo Il problema è che sgomma molto la moto Poi il cambio automatico è un po' deficiente Perché non cambia marcia Vedete, tena la seconda E metti la sta cazzo di terza Poi quando la mette Fa terza quarta in un colpo solo Occhio Eh, Coldenov si è definitivamente allontanato Non lo prendiamo più Ho idea che devo accorciare un po' Il rapporto Grazie della spinta Nagle e Bobrischev Ci hanno frombolato il podio E dai, sta moto di merda La TM è veramente Di un altro livello Sulla MX1 Ma in senso negativo del termine Dai, almeno è il terzo posto Che cacchio Più forte persino la Honda Mamma mia, che schifo Che schifo sta gara E' l'ultimo settore Il nostro tallone d'Achille Dobbiamo stare attenti là Quindi è sempre Andrà larghissima la moto Ha vinto Coldenov Ok, non facciamoci fregare All'ultimo salto Bene, terzo posto Che schifo di gara Andiamo a vedere gara 2 Come va Anche per questa seconda manche Diluvia E mannaggia sta partenza Eh, vabbè, no Ripartiamo direttamente, raga No, dove va? Oh, oh, oh Un momento Sì, siamo partiti veramente a razzo Però poi la moto fa cagare E quindi Siamo andati Un po' a schifio Dai, dai, che andiamo a prendere la testa Nagle No, dai Ci siamo presi dentro con Il pilota tedesco Eh, vabbè, scusi, nagle E allora Che vogliamo fare? Simpson è in testa al mondiale? Non è vero Sono io in testa al mondiale Ah, forse Simpson è il nostro avversario Ok, 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 ok Scusate, eh Però sto fatto che Nagle mi deve fare quasi cadere Non ci sto Ecco, ci penso da solo Giustamente Ma vai a fare in culo E daie Ok, così va molto meglio Nagle si ributta dentro Dai, la voglio andare a vincere sta Manche Certo che Se faccio ste cagate Arrivo domani No, così non va bene, raga Così non va bene Dobbiamo stare concentrati Eh, vabbè, un nagle è andato Non lo prendiamo più Eh, pure Vanore Perché che cazzo Dai No, vabbè, raga Sta moto Non viaggia Non va Eh, la madonna Che cazzo è Philip Earth C'è arrivato al doppio della velocità Però sulle waves è stabile almeno Poi mi spiego Che cosa Poi mi spiega che cosa ha toccato Vede, ci sono i canali ma non si entra dentro Dai, dai Scusi Cairo Eh, vabbè, qua abbiamo fatto una cagata a noi Potevamo Anche frenare un po' più tardi Come in questo caso Cairoli insiste Niente, ha superato pure Cairoli Anche Philip Niente, ragazzi Sta moto proprio Non gira Non che non gira E che non accelera Perdiamo tutto in accelerazione Dalle curve lente Lasciamo tutto là Sulle waves Vedete, non accelera dalle curve lente Stiamo facendo pure il tappa Sti poveracci dietro Poi sul bagnato non ne parliamo Dai, dai Stringiamo i denti fino alla fine Vai, anche Kolbenov Dai Chi altro No, vabbè, raga Sta gara proprio da buttare nel cesso Che schifo Mamma mia Uno scempio, veramente Terzo nel GP Che schifo, veramente, raga Una vera Una vera disfatta Letteralmente Allora Vediamo un po' Quale sarà il prossimo circuito A Valkensbar Di certo questo è più bello E per visto anche il sole Però sicuramente in gara piovrà Noi ci lasciamo qui ragazzi Ci vediamo nei prossimi episodi Un bacione Noi ci vediamo 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 Grazie a tutti.